Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 12 dove a causa del traffico intenso si registra un chilometro di coda a Rosignano in uscita in direzione sud. Spostiamoci in a 15 possibili rallentamenti a causa di uno scambio di carreggiata per lavori tra Pontremoli e Berceto dal chilometro 58-500 al chilometro 57-890 in entrambe le direzioni. Nella città di Firenze invece possibili disagi per un incidente avvenuto in via Pisana all'incrocio con via del Ronco Corto. Chiudiamo con i treni il Frecciarossa diretto da Torino Porta Nuova a Roma Termini, atteso a Firenze Santa Maria Novella alle 16.50 viaggia con 44 minuti di ritardo. Ripartenza prevista da Firenze alle 17.43. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!